Allora Ragazzuoli Il posto dove volevo lanciare prima Era occupato da una simpatica coppia Di vecchietti che pescavano a Bolognese E ora se ne sono andati E io ne approfitto E vengo immediatamente A lanciare dove volevo Era proprio qua il posto Vediamo se qua Esce un bel pesce La condizione E' ottima Mare pompa sempre bene Però qua sono alto Sono abbastanza al sicuro Sarò a 6-7 metri Su livello del mare E la parete è completamente verticale Un bel posto Mamma mia come macino Poverino Dopo che è arrivata un'onda L'ha completamente immerso Per diversi secondi Il cuscinetto sotto Sotto il rotore Inizia a fare Giacomo Giacomo Ma è normale Povero Ho preso un sacco di sale Si pesca da Dio Non c'è vento Non c'è vento Bello Bel marazzone Bello schiumone Tutto bello Oh yes Eccolo Eccolo E mi ha mangiato sul fondo E non sembra neanche un pesce piccolo Probabilmente un bossi negro Ci sarà poi da ridere A tirarlo su Ma Via Tanto portiamo la galla Una cerniotta Cerniottina Cerniottina Ina ina Si li facciamo prendere l'ascensore Va Carina Cerniottina Ina 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 Però molto bella Bei colori Bellissimi colori Bei colori Poi la liberiamo Colori meravigliosi Che colori meravigliosi Primo pesciolino Della giornata Pesciolino Ino ino Ma che colori Sul sardine slider Da 100 grammi Colorazione Ciartona Bella Bella gaia Un pesce Piccolo piccolo Ma bello colorato Bello 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 in forma Bello tutto Lo rilasciamo ovviamente Fai ciao 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 E basta Adesso vado anche a mangiare Un tramezzino Che ho una fame Metto un needle Nidergy va Ancora un paio di lanci Con il needle G ce li voglio fare Ok Non è grosso Però la botta è stata bella Ma mi sembra più un barracudino Non lo so Boh Mi sembrava un barracudino All'inizio No Un pagro Un pagro otto La devo tagliare Ma che carino Su pagrottino Piano 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 Il pagrottino Piccolino Piccolino Che andiamo a rilasciare Basta che non mi fai male Allora Molta attenzione Il pagrottino Wow! Grazie a tutti E decidiamo cosa fare Ok Ok Bel pesce Ok 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 No 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 Allora Aspetta 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 Fammi vedere com'è messa Sì il pesce è fima Voglio vedere com'è lavato Aspetta eh Faccio salire su con l'onda No 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 Ora vai Dalle branche Dalle branche Vai Vai cazzo Lo sapevo che la pigliavo Lo sapevo che la pigliavo Grande Per questo sono venuto Che pesce Che pesce Wow Sul needle jig Sul needle jig Colorazione UV La nera Oh oh Bomba Allora ragazzi Questo pesce Questo pesce che È andato molto Ma molto Al di fuori Delle mie più rose Aspettative Speravo di Prendere qualcosa Prendere un bel pesce Ovviamente no Come pescatori ci speriamo sempre Questo è un pesce che è andato parecchio oltre Quello che era il mio sogno Mostruosamente proibito Ero venuto Qua alle Canarie Per una vacanza di pesca Con un sogno nel cassetto Che non avevo nemmeno Il coraggio di dire apertamente Anche nei video Di dire Cacchio mi piacerebbe prendere Un grosso corassiere da terra Comunque si tratta di Pochi Poche decine di giorni di vacanza E di pesca complessiva Quindi insomma Un periodo abbastanza Ristretto Dove Dove cercare di fare Combaciare tutti gli eventi Ed è andato bene Ed è andato bene Sono Super contento Super contento Grazie anche a A Daniele Che mi ha accompagnato In questa In questa bella avventura Che bello Sono proprio contento Oggi Non mi aspettavo nulla Non mi aspettavo nulla Stamattina Ce la siamo presi comoda Un paio Un po' di sfighe Con Anche le apparecature elettroniche Insomma Un po' di casini Ero un po' Deconcentrato Ecco Era un po' deconcentrato Non mi aspettavo nulla Magari Sì Un po' comunque bello Però Non avevo Non avevo nessuna sensazione Da dire Sì Magari sì Una palamita Un barracuda Niente di Niente di così Eccezionale A livello di cattura E invece E invece Come spesso dico La pesca è bella Perché quando siamo Carichi Di aspettative Spesso e volentieri Succede poco O nulla E a volte La cosa bella È appunto Che quando Non ci aspettiamo niente Siamo magari Demotivati Abbiamo la testa un po' Dall'altra parte È proprio lì Che il mare A volte Non sempre Ma a volte Ci fa regalo E E ci dà la possibilità Di incontrare Magari un pesce del genere Quindi Questo video ragazzi Può finire qui Grazie Ma è anche L'anchiaccio Maledetto Che è uscito Dalla roccetta Quindi ragazzi Il video finisce qui Io vi saluto Vi abbraccio Come sempre Statemi bene In gamba E Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi